Hanno scritto al Premier Matteo Renzi e al Ministro per la Riforme Maria Elena Boschi i genitori dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia Acropoli e Pallanca a gestione diretta del Comune di Arezzo. L'obiettivo è quello di portare all'attenzione di tutti la situazione dei servizi all'infanzia nella fascia 06 ad Arezzo e le decisioni politiche che sta prendendo l'amministrazione. Il problema, dicono i genitori, sta nella sostituzione dei 27 pensionamenti ai quali il Comune di Arezzo, come affermato nelle svariate riunioni, risponderà nel 2014 con una sola assunzione, mandando poi a gara due sezioni di Acropoli e due di Pallanca e una assunzione nel 2015 mandando a gara le altre due sezioni delle scuole. La paura dei genitori è ovviamente di un'eccessiva esternalizzazione del servizio che quindi non rimarrebbe più sotto lo stretto controllo del pubblico. Noi chiediamo, affermano i genitori nella lettera, che come prevede la legge il Comune agisca utilizzando la deroga al patto di stabilità. Il Comune di Arezzo rispetta tutti i criteri e quindi lo potrebbe fare e lo deve fare, proseguono i genitori, anche per non tradire il mandato elettorale che ha ricevuto dai cittadini nel 2011. Nel capitolo del programma elettorale dedicato proprio alla scuola si cita il rapporto pubblico-privato che nel settore delle politiche e delle strutture educative per l'infanzia dovrà essere impostato in modo tale da evitare ogni ulteriore dismissione di sezioni, plessi di nidi o scuole dell'infanzia. Grazie. 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 Grazie.